mercoledì potrebbe essere il giorno più caldo dell'anno per quest'onda di calore che durerà fino alla fine della settimana a comunicarlo e arpa piemonte segnalando l'allerta per anomalia termica molto calda che interesserà tutto l'alto piemonte tutta colpa dell'anticiclone di matrice africana che dal marocco si estende all'europa centrale lo zero termico dopo aver superato i scarica gratuitamente l'app news 24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online è live 24 ore su 24